C'era una volta e per fortuna non muore. L'idea che il bacio sia già una promessa d'amore. Ma poi cos'è un bacio? Un segreto detto sulle labbra o forse un sentimento gridato direttamente nella bocca di qualcun altro? Forse entrambe o forse nessuna, ma sicuramente tutti abbiamo qualcuno da cui ora un bacio lo riceveremo volentieri. Dicono che se quando baci una persona ci immagini una vita insieme, allora quella persona è quella giusta. Ti ho baciato tante volte, ho dimenticato quante, ma quell'immagine non la scorderò mai. Ancora oggi mi immagino una vita insieme a te. Adesso baciami, poi ci spiego. Baciami per strada, senza motivo, solo perché ti va. Baciami tra le lenzuola, lasciandomi in bocca al sapore delle tue labbra prima di addormentarti. Baciami e non bacio, dimmi tutto quello che provi per me. Io farò lo stesso. Ti dirò che penso a te 23 ore al giorno e nell'ora rimanente penso a quanto è bello baciarti. Baciami, fallo ovunque, dalle labbra alla bocca, dal collo alle mani. Io farò lo stesso. Ti bacierò sulle ferite dove un tempo faceva male. Baci lenti e smetterai di sentire il dolore. E non c'è nulla che un bacio improvviso non possa risolvere. Dedicato a tutte le persone che almeno una volta sono arrivati in ritardo per darci un bacio in più.